Bene, adesso possiamo passare ai dialoghi. Ho preparato diversi dialoghi per voi, per vedere insieme a voi come parlare dei dolori, il dolore, i dolori, è una parola maschile in italiano, e delle malattie, la malattia, le malattie più comuni. Due dialoghi si svolgono al pronto soccorso, e tre dialoghi si svolgono nell'ambulatorio, l'ambulatorio, le cabinet, di un medico, di un dottore. Il medico, le médecin, e il dottore anche, le médecin. La differenza è che medico è una parola usata in un registro più elevato, più tenue, mentre dottore è più informale. Va bene? Il medico e il dottore. Non vi spiego nel dettaglio come funziona il sistema sanitario in Italia, perché è un argomento piuttosto difficile, ma voglio dire solo due cose. Va bene? Allora, dovete sapere che il sistema sanitario in Italia è in parte gratuito, per esempio un italiano, un cittadino italiano, non paga le visite al pronto soccorso, non paga le visite urgenti, soprattutto al pronto soccorso, e non paga le visite dal medico di base, l'umidiziano generalista, ok? Il medico di base. E in parte, invece, il sistema sanitario non è gratuito, i cittadini devono pagare, per esempio, quando vogliono fare una visita da un medico specialista, o quando hanno bisogno di una vaccinazione, o di un'analisi del sangue, va bene? In questo caso, i cittadini devono pagare, il sistema sanitario non è gratuito. Gli italiani, per accedere al sistema sanitario, hanno bisogno di una tessera sanitaria, una tessera sanitaria, e, per esempio, se voi venite da un paese come la Francia, il Belgio o il Lussemburgo, quindi un paese che fa parte dell'Unione Europea, potete usare la vostra tessera perché ha lo stesso valore della tessera italiana, quindi potete essere curati, être soignés, curare, soignés, essere curati, être soignés, gratuitamente, come un italiano. Se avete un permesso di soggiorno, non ci sono problemi, nel senso che, sì, potete essere curati in Italia nel periodo in cui state in Italia, gratuitamente, come un italiano, se invece siete dei turisti, per esempio, e non venite da un paese dell'Unione Europea, e non avete un permesso di soggiorno, dovete pagare. Il sistema sanitario, purtroppo, non è gratuito in quel caso, dovete sempre pagare, va bene? Adesso vediamo i dialoghi. Buongiorno, dottore, non sto molto bene, ho mal di gola da due giorni. Buongiorno, ha solo mal di gola? No, ho anche un po' di febbre. Va bene, ora la visito. Sì, purtroppo si tratta di una piccola tonsillite. Oh, è grave? No, assolutamente, però deve stare a casa almeno tre giorni per curarsi. Che medicine devo prendere? Le prescrivo delle compresse. Prende una compressa al mattino e una alla sera, per cinque giorni, saranno sufficienti. Le preparo subito la ricetta. Mi può dare la testa sanitaria? Sì, certo, prego. Grazie. Ed ecco la ricetta. Buona giornata! Buongiorno, dottore, sto malissimo. Ho la tosse da qualche giorno e ho anche qualche linea di febbre. Buongiorno, la tosse è forte? Sì, è molto forte e grassa. Va bene, adesso la visito, d'accordo? Mmm, questa è una polmonite. Vedo che respira molto male. Ha altri sintomi anche? Ho anche un po' di mal di testa, ma forse perché sono stanco in questo periodo. Ah, ok, beh, non è rilevante. Penso però che dovrà stare a casa almeno due settimane per questa polmonite. No, non è possibile. Eh, mi dispiace. Le prescrivo un antibiotico molto potente perché la sua polmonite è piuttosto grave. Prende questo antibiotico tre volte al giorno per due settimane, va bene? E mi può dare la testa sanitaria così preparo la ricetta? Certo, mi scusi. Ecco. Grazie mille. Ed ecco la ricetta. Se ci sono delle complicazioni mi telefona, d'accordo? Va bene, grazie mille. Buona giornata. Buongiorno, dottore. Non mi sento molto bene. Ho la febbre da tre giorni e in più ho anche il raffreddore e mal di pancia. Buongiorno. Beh, probabilmente si tratta di un'influenza. La febbre è tanto alta? Stamattina avevo trentanove di febbre. Sono ancora pieno di brividi. Giù! Capisco. Ha vomitato? No, però non riesco a mangiare. Ho sempre la nausea. Va bene. Ora la visito così posso controllare bene. Sì, purtroppo si tratta di un'influenza intestinale, di una gastroenterite. Dicembre, molte persone hanno l'influenza. Non è niente di grave, non si preoccupi. Va bene. Devo stare a casa dal lavoro, vero? Esatto. Cinque giorni di riposo sono fondamentali per ogni influenza. Ha bisogno di un certificato medico? Sì, grazie. Perfetto. Allora la preparo subito. Posso avere anche la sua tessera sanitaria? Sì, certo. Ecco qui. Perfetto. Ecco il certificato medico. Per la cura le prescrivo un antibiotico, va bene? Preferisci uno sciroppo o delle pastiglie? Uno sciroppo, grazie. Perfetto. Ecco qui la ricetta per l'antibiotico ed anche la sua tessera sanitaria. Prende l'antibiotico tre volte al giorno per una settimana, va bene? Va bene, grazie. Ottimo. Sa già dove si trova la farmacia più vicina? No, abito qui da poco tempo. Allora, lei deve uscire dall'ambulatorio, girare a destra, andare sempre dritto fino in fondo alla strada e una volta arrivato all'incrocio deve girare a sinistra e la farmacia si trova a 200 metri sulla destra. Oh, perfetto. Grazie mille e buona giornata. Prego, e si riposi. I pazienti del pronto soccorso, prima di essere aiutati, sono classificati in base alla gravità del problema. Usiamo un codice, un triage, usiamo questa parola francese per classificare i pazienti. Abbiamo il codice rosso, il codice giallo, il codice verde e il codice bianco. Il codice rosso rappresenta un problema grave, serio, e il codice bianco no. In questo caso il paziente deve pagare la visita, negli altri casi no, la visita è gratuita. Va bene? Oh mio Dio, cos'è successo? Eh, purtroppo c'è stato un incendio e un uomo si è ustionato il braccio e parte del collo e della testa. La situazione è abbastanza grave, è un caso da codice rosso secondo me. Ecco la sua testa era sanitaria. Un ustione? E dov'è il paziente? L'ambulanza è appena arrivata. Ah no, ecco il paziente. Oh ecco, sì, è indubbiamente un codice rosso, può già entrare. Buongiorno, mio figlio si è rotto la gamba, è urgente! Sì, d'accordo, è urgente, ma si calmi, non può entrare. Un attimo che devo controllare le condizioni di suo figlio. Sì, è un codice verde. Posso avere la testa sanitaria di suo figlio, devo compilare il modulo di eccitazione. Prego. Grazie. Allora, nato a... il 20 giugno... ok, perfetto, grazie. La invito ad aspettare in sera d'attesa finché non la chiamiamo, va bene? Quanto devo aspettare? Non lo so, mi dispiace, c'è un caso più urgente al momento, perché un uomo si è ustionato in un incendio e la situazione è abbastanza grave. Ah, va bene, grazie per il momento. Buongiorno signore, cos'è successo? Mio figlio si è fatto male mentre giocava a calcio, è caduto per terra e si è rotto la gamba, credo. Come vede si è anche sbucciato il ginocchio. Ho pulito la ferita con un po' di disinfettante e ho messo un cerotto, ma non è abbastanza. Sì, vedo. Dopo chiamo un'infermiera per fare una medicazione migliore, con pomate, cerotti, carze, eccetera. Adesso vorrei controllare bene la gamba di suo figlio. Ehi, giovanotto, come ti chiami? E quanti anni hai? Mi chiamo Stefano e ho 13 anni. Se tocco qui fa male Stefano? Sì. Riesci a stendere la gamba? No. Eh sì, purtroppo questa è una frattura. Dobbiamo mettere un gesso Stefano. Signore, mi scusi, può uscire mentre puliamo la ferita e mettiamo il gesso a suo figlio? Sì, va bene, ma per quanto tempo deve tenere il gesso? Non lo so ancora, devo controllare bene il tipo di frattura, ok? Va bene, grazie, a dopo. Ciao Stefano! Allora, la frattura è meno grave del previsto. Stefano avrà bisogno del gesso solo per due settimane, va bene? Deve stare a riposo per almeno tre giorni e poi potrà tornare a scuola con le stampelle, d'accordo? Fra due settimane torna qui e togliamo il gesso, ok? Perfetto, grazie. Devo pagare la visita? No, no, una frattura è un problema serio. Ah, perfetto, grazie mille. Arrivederci. Arrivederla? Ciao Stefano! Bene, ho finito. Se avete domande lasciate un commento. Ci vediamo. Ciao!